Campomarino piange la diciassettesima vittima dall'inizio della pandemia a spezzare il cuore della comunità basso molisana e la morte di un noto ristoratore del posto conosciuto e ben voluto da tutti aveva 69 anni ed era ricoverato nel reparto di malattie infettive. Nello stesso reparto non ce l'hanno fatta un'ottantenne di Termoli padre del consigliere regionale Michele Marone e una donna di 98 anni di Montaquila è morto invece in terapia intensiva un 72enne di petacciato e così il totale delle persone uccise dal coronavirus sale a 314 in attesa della disponibilità dei 60 posti letto della fondazione Pavone di Salcito i reparti covid del Cardarelli continuano ad essere congestionati 85 i pazienti ricoverati 11 in rianimazione 74 in malattie infettive dove si registrano sei nuovi ricoveri e una sola dimissione mentre sono 8 le persone trasferite dal reparto diretto dal dottore Santopuoli 2 in terapia intensiva 6 al gemelli mulise dove c'è un piano con 10 posti letto di area medica covid pochi i tamponi processati 291 pochi nuovi casi 8 di cui 3 nel capoluogo di regione con tasso di positività del 2,7 per cento 59 i guariti 1524 i casi attualmente positivi 136.259 i tamponi processati dall'inizio dell'emergenza sono infine 1776 i soggetti in isolamento